Francesco Pavoni, ho appena vinto il campionato italiano a Lievi, salto in alto 2-0-1, ho provato 2-0-3 però dopo la vittoria ero un po' scarico e ringrazio molto le persone qui presenti perché ho fatto un errore a 90, 96 al terzo e se non mi avessero aiutato con le mani con la clap non sarei riuscito a fare 2-0-1 nel 96, nel 98 e negli altri, quindi grazie. Grazie.